Bene, salve amici, un saluto da Raffaele che è qui in mezzo alla gente, in mezzo alla strada per cercare di parlare un po' di qualcosa di particolare con la gente che incontreremo quest'oggi. C'è il sole, la giornata sembra essere bella, però fa un freddo cane. E alla gente porremo dei quesiti un po' particolari, vedremo un po' cosa ne pensano dei seni siliconati, del diffondersi sempre più forte dei reggiseni cosiddetti push-up che stringono il seno e lo portano verso l'alto. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcuno in grado di rispondere. Paolino che fa un freddo cane questa mattina, addentriamoci nel caos infernale di questa zona. E vediamo un po' se qualcuno dice qualche cosa. Un saluto agli amici dello studio e a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao. Secondo lei, cosa ne pensi un po' della diffusione sempre più frequente dei reggiseni push-up, quelli che stringono il seno e lo portano verso l'alto? Secondo lei è una cosa buona oppure poi può essere un po' una delusione per l'uomo quando slaccia e vede che la sostanza praticamente non c'è? Beh, io penso che ci sarebbe un po' una delusione per quest'uomo perché è troppo ingombrante, è troppo, quindi non potrebbe essere a disagio suo. Infatti poi magari questo seno sembra porrompente, sembra grosso perché come ho detto ci sono dei pezzi di spugna che spingono verso l'alto e poi in effetti è piccolino. Dei seni siliconati cosa ne pensa? Beh, io penso che non è una cosa normale, dovrebbe essere il seno naturale, diciamo, proprio come è stato creato. Come è stato creato? Come è stato. Ringraziamo il Signore. Amici, tante cose, quindi cerchiamo di proseguire con questi filaccioni qua. Io penso che sia una cosa negativa perché è meglio avere un seno normale. Meglio il seno normale di quello siliconato, è più sota. Chiediamo al Signore cosa ne pensa dei seni siliconati. Io voglio che... Pasquale, vieni qua, vieni, Pasquale. Pasquale ha paura? Comunque, indipendente da Pasquale, lei dei seni siliconati cosa ne pensa? È una cosa buona qui? Che ce ne dice? Non devo dire niente, che devo dire io? I seni quelli... Stiamo si arrabbiati per il tempo. Senta, poi un'altra cosa, i reggiseni push-up si vendono, hanno un certo successo tra la gente? Non è perché... Chiediamo un po' alla ragazza, vediamo un po' se ci riesce ad aiutare. Senti, i reggiseni push-up hanno successo, queste cose che spingono un po' verso l'alto? Ora, fra quale è elettrica ora? Le tete elettriche? Elettrica, reggisina elettrica, spingi il bottone. Ah, e si eleva sempre più, a seconda della situazione in cui ci si trova. Avete sentito una novità quindi questa mattina? Tra poco ci sarà l'avvento, l'arrivo dei reggiseni elettrici. Grazie, ciao. Posso farti una domanda? No, via, veloce. Scusi, signorina, una domandina, una domandina veloce. Niente. Ragazzi, siamo in compagnia di altri amici. Proviamo a chiedere a loro cosa ne pensano dei seni siliconati, praticamente delle tette finte. Le tette finte? Per me non piacciono. Sono migliori quelle vere? È vero, sì. Un'altra cosa, nel caso in cui tu dovessi incontrare una ragazza che presenta dei seni piuttosto prorompenti, però poi alla fine dovessi scoprire che questi seni non esistono perché questa grossezza deriva dal reggiseno push-up, quello che spinge sotto, rimarresti deluso? Lo diresti? La prenderesti a schiaffio o no? Oppure ti accontenteresti del minimo? Beh, a dirglielo no, però rimarrei deluso. Quindi, questi reggiseni, care ragazze, non è che hanno molta fortuna se la serata dovesse continuare. Se ci si limita agli sguardi va bene, ma se poi la serata continua diciamo in un lettino… Poi sono quelli che hanno e basta. Se c'è qualcosa o se non c'è niente proprio, questo è tutto da venire, anche se è rinforzato. Se c'è qualcosa è meglio accettare, è meglio accontentarsi, diciamo, è meglio di niente. Se sono piccolino e basta questa qualcosa. Basta che va bene. Per me non serve a niente. E poi quindi… Magari vengono anche complicazioni da dietro, penso, penso. Poi signore… Quindi è meglio accontentarsi di quello che si ha, vero? Sì, è abbastanza anche. Dobbiamo anche ringraziare il signore di averci creato in buone condizioni. Non rovinarsi, magari, assolutamente no. Grazie signore, buongiorno. La carne è vera è sempre… È sempre giusto, è sempre vera. La carne è vera è sempre vera. Altra cosa che stiamo chiedendo, nel caso in cui ci si dovesse trovare di fronte una sera ad una donna che ha un reggiseno push up, questi reggiseni che spingono verso il centro e verso l'alto il seno, fin quando ci si limita a guardare, magari uno può avere pure l'illusione che il seno sia vero, ma se dovesse capitare di trovarsi in condizione di staccare il reggiseno e poi si vede che tolti il reggiseno non rimane niente, c'è una delusione oppure ci si accontenta di quello che… Beh, è normale che l'impatto delude, però poi, insomma, alla fin fine uno cerca anche di accontentarsi perché se nel complesso è una bella donna, accontentiamoci. Quindi il seno non è che poi sia così fondamentale? È capitato di fare l'intervista a uno a cui il seno piace, se si può dire, la parte se basso, il sedere secondo me è molto più importante in una donna che non il seno, quello che io guardo, poi… Infatti, grazie. Signorina, non ne pensa niente dei seni siliconati, una domanda? No, va bene, no niente, come non deve? Per metterle una domandina sul seno siliconato, cosa ne pensa? Niente, niente. È un macello intervistare la gente, è un macello, non ce l'avevo mai provato, però è un problema, è un problema serio, problema serio, stuta, stuta. Cosa ne pensi un po', vediamo? Io penso che non siano domande da farsi al prima mattina. Perché? Diciamo la notte vanno bene? Ben meglio, poi in questi contesti così, non lo so. E proprio in questi contesti non deve scherzare perché qua si spende, problemi vari, abbiamo sentito di problemi, la gente ci voleva parlare di tutti i problemi che le affligge dalla mattina alla serba pannusta, mattina. Sì, 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 ho capito. No, altri problemi, noi invece cerchiamo di scherzare un po'. E senti un po', se la tua ragazza facesse uso del reggiseno push-up, cioè tipo quello che tira su al centro, tu quando, venuto a conoscenza della vera consistenza della tetta diciamo, ti arrabbieresti se fosse inferiore rispetto all'apparenza o no? No, non mi arrabberi, perché? No. No, infatti. Ognuno deve accontentarsi di quello che è. E il reggiseno push-up, quello che spinge? Pure quello, una fesseria? Boh, boh, non l'ho mai provato, sinceramente. E tu grazie. Se la tua ragazza portasse, avesse, indossasse questo reggiseno push-up, saresti arrabbiato o no? O ti piacerebbe pure vedere qualcosa che in effetti non c'è? No, io non glielo farei portare, sinceramente. Non so gli altri. Sono d'accordo. Sei d'accordo? Lei come sta, per esempio? Cosa ne pensi tu dei segnali? Dai, una domandina così. Ah, se uno, se gli serve per sentirsi bella a una persona, tanto vale che lo faccia. Bravo, sono d'accordo. Grazie. Di niente. Ciao. Paolino, che dici ce ne siamo? Bene amici, abbiamo concluso questa prima serie di interviste tra la gente in questa giornata veramente fredda. Fa un freddo da matti. Meno mai che abbiamo il pottino, la magliettina con lo alto, il cameraman sta morda fredda. Avete sentito un po' le opinioni di tutti quanti rispetto ai seni siliconati, ai reggiseni push-up. Push-up. Ci sono opinioni contrastanti. Comunque, ognuno la pensa a modo suo, no? A voi studio. Qui, Raffaele. Ah, 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 ah.